No, qualcuno risponde al telefono ma è una persona obiettivamente straniera con un forte accento francese magrebino che sostiene di non conoscere il vero proprietario del telefono che è l'amico mio quindi abbiamo dovuto veramente battere strade su strade per cercare di trovare il suo nuovo numero siamo al quarto nuovo numero con il quale lo perseguitiamo Ma mi scusi, quindi lei sta dicendo che l'ha trovato alla fine? Io non sto dicendo un cazzo, non mi metta in bocca parole che non ho detto Allora facciamo una cosa, le metterei in bocca a qualcos'altro ma adesso ci colleghiamo con la zecca No, non quella roba lì, sei malpissato, sei malpissato, sei malpissato Contro natura Andiamo, vai Radio 23, centimetri, presenta la zecca Tutto il resto è droga Allora oggi la scaletta imporrebbe di parlare di Inginio Massari Inginio Massari che ha deciso che la cassata, dolce tipico siciliano, peraltro buonissimo, è troppo dolce Prima di occuparci di Inginio Massari però dobbiamo scoprire che fine ha fatto l'amico mio perché la scorsa settimana il suo telefono con il suo numero è finito nelle mani di un vieco personaggio che parla francese e sono molto preoccupato per lui che sia stato rapito, sequestrato, forse da un'organizzazione terroristica Proviamo a chiamare l'amico mio subito, togliamoci questo dubbio Allora senti, senti, questo numero di telefono dal quale rispondi tu era di un mio grande amico E io non conosco, me ne fanno stare Ecco, io ho bisogno di trovare questo mio grande amico No, io non conosco questo tuo amico Eh, però tu hai comprato Questo è il mio numero, il mio telefono, lasciami Allora, tu hai comprato il suo telefono con il suo numero Sì Quindi lo conosci Ma tu non sei polizia, ne fanno stare Ma io non sono polizia, no, infatti sto cercando un mio amico Come lo conosci? E non conosci, ci hai comprato il telefono, conoscerai No, mi dispiace, non posso aiutare, mi dispiace Ho bisogno di trovarlo assolutissimamente, è una questione di vita o di morte No Ti do 50 euro No, io, io non voglio i tuoi soldi, lasciami stare Ti do 100 euro, 100 euro, ti do 100 euro No, no, mi lasciami stare, oh, lasciami 200 No, non mi devo più chiamare qua, basta Ma io, 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 sì, sì, anche io sto lavorando, ho bisogno del mio amico per lavorare No, mi lasci stare Dammi la mano a trovarlo, dai No, mi lasci stare, sono rosso, vaffa un culo Ma vaffa un culo tu, ma che cazzo vuoi? Pronto? Niente, niente, di cui non si passa, non si passa, linea Maginot, linea Maginot L'unica cosa che ci resta da fare è provare a contattarlo al numero precedente Vedere se il suo amico sa dove è finito il grande Grayskull Chiamiamo Pronto? Pronto grandioso, sono Giuseppe Bruciani, la zecca, buongiorno Ma vaffa un culo brutta merda No Cavano, ma chi cazzo sai che tre vuoi دarmi il numero adesso? No Ma fade Marda maledetta Va a morire male Amico mio, hai cambiato numero policies Ascolta, infanne, maledetto Letta la donna per favore non stavo per me i coglioni ti porti una sfiga tremenda brutta merda perché porto sfiga? ci vediamo a Vincenzo brutta merda te lo giuro te lo giuro morirai male te lo giuro amico mio cucciolotto del mio cuore qualcuno, una persona che parla francese ha il tuo numero di telefono pronto richiama no rompami più i coglioni ma stai calmo ma stai calmo ma stai calmo stai calmo devi affrontarmi qua spettila di chiamarmi brutta merda di una merda di un olto maledetto bastardo stai a morire olto maledetto ero preoccupato ma smettila smettila represso frustrato hai finito o no non c'è nessun amico mi ha fatto segna immediatamente questo numero non c'è nessun amico tuo amicone 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 sei il mio grande amicone non puoi farci niente io ti voglio bene sei la luce dei miei occhi ma ancora 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 richiamami ma no ma lascialo stare vai a fare il culo non c'è nessuna mia brutta merda l'unica mia della tua morte bastardo e avrà per le mie mani te lo giuro maledetta merda non c'è nessuna mia cancella immediatamente questo numero infame maledetta bastardo vai a morire no no assolutamente no cambiamoci sei tu che mi fai alterare infame maledetta ecco ma io avevo ero molto preoccupato per te tu devi morire male tu no ma io ma che niente tu devi morire male devi affrontarmi e parlarmi quando ci vediamo di passare ho da fare ho da fare ho da fare maledetta ora è bastigiale è presentabile verso la società brutto ma io faccio parte ma io faccio parte che dovresti fare faccio parte è quella di solito di riospitare gente senza così è fastidio perché mi fai vogliare infame maledetta di un battardo disco rotto disco rotto hai finito hai finito disco rotto perché ci siamo le solite robe ma cosa ci siamo le solite sono tre punti ma sei tu che dici le solite robe sei tu che dici le solite robe sei tu che dici le cose sei tu che dici le solite robe non vedrò che ti comporterai bene sei un carion sei un carion sei un carion sei un carion dici sempre che quando parlo mi dici cosa ma da chi ma da chi che bestemmie dici parolacce e minacci saresti tu quello educato è una persona una persona anaffettiva non si lascia amare Non si lascia amare Io che ero così preoccupato Non sono neanche riuscito a trasferirgli Tutta quella empatia E quella voglia di abbracciarlo E coccolarlo fra le mie braccia pelose Una persona anaffettiva, un mostro Ma io lo curerò Alla prossima Lascialo stare Ero così preoccupato per lui Non gli interessava Ma tu sei veramente una merda Mamma mia Il problema è che prima o poi Questo qua troverà il vero Cruciani E gli fa la pelle per colpa tua O peggio Il programma delle 6 di 105 No 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 o peggio Si renderà conto che non è il vero Cruciani E fa il culo a te Padrone non in cosa Anzi Paolo Cazzo che bella idea che mi hai dato Chiamiamolo e diciamoglielo Così cerca Fabio Voglio responsabilità Sì ma io lo dico io Allo Fabio è quello con i capelli lunghi La barba molto basso e le braccia lunghe Alla prossima telefonata glielo dico